Il nostro, dopo aver studiato l'avversario, lo attacca a fondo specialmente col suo sinistro a stantucco. Forza Mitri, fai vedere chi sei! Nel quinto round potevi metterlo knock-out. Sei stato troppo buono Trieste, ma tanto lui non ti dirà grazie. Che schivata! Bravo Tiberio! Il vestito da una girandola di colpi, Dottwil indietreggia, ma Mitri gli è addosso, non gli dà fiato. Lo costringe alle corde, lo tempesta, lo demolisce colpo su colpo. E dov'è sto tazza? Ne sarà più bravo domani a chiacchiere, quando proclamerà ingiusto il verdetto che l'avrà dato sconfitto ai punti. Al decimo round sarà ridotto uno straccio, con l'orecchio sinistro e l'occhio destro maciullati. Mentre Tiberio nostro, giovane leopardo, marcia diritto verso il campionato d'Europa. Puoi sperarlo, ci sai fare!